Qualche giorno fa, mentre ero sull'applicazione del Luci di Bicocca per scegliere quale film andare a vedere, mi sono reso conto che dal 30 giugno sarebbe approdata nelle sale una pellicola italiana dal titolo Tenebra, vietata ai minori di 18 anni di genere thriller a tinte horror e diretta da Tal Anto. Io non conoscevo il regista, ma non avevo proprio mai sentito parlare di questo film, che subito ha destato la mia curiosità. Ho percepito, senza nemmeno vedere il trailer perché a me non piace, cioè adoro scoprire tutto in sala, ho percepito che fosse di nicchia, che magari nel corso della settimana avrei già difficilmente potuto trovare questo film nelle sale e quindi il primo forno di programmazione alle 23 sono andato a vederlo. In sale eravamo pochi, io e una coppia di fidanzati, ma lo sapete, mi piace sostenere il cinema indipendente rischiando di trovarmi di fronte ad un qualcosa che ne ho riuscito, ma devo dire invece che mi abbia saputo sorprendere. Parliamoci chiaro, i problemi li ha, ci sono parecchi difetti, bisogna sospendere l'incredulità più volte, ma allo stesso tempo mi ha proprio fatto respirare quel clima argentiano che non ho per assurdo trovato nemmeno in occhiali neri. Da un lato ho pensato, ma non poteva essere questo il grande ritorno di Dario Argento? Il maestro Dario Argento che dirige Tenebra, già un film che richiami un'altra sua pellicola di successo, cioè Tenebre, però sicuramente questo Tenebra è molto più sensato, è sicuramente molto più accattivante, affascinante, più intelligente di un film non riuscito come il pessimo Occhiali Neri. Mi piace come Anto, a cui sicuramente auguro il meglio perché a livello registico diverse volte mi ha saputo regalare anche dei momenti interessanti, mi piace come Anto riprenda dal cinema argentiano, proprio anche nelle ingenuità del cinema argentiano, perché ripeto, Tenebra è un film modesto, è un film carino, non vi aspettate il capolavoro, non vi aspettate di trovarvi di fronte ad un qualcosa di meraviglioso, ma a me fa piacere trovarmi di fronte ad un cinema italiano che tenta almeno di fare qualcosa di diverso. Ed in questo caso, tentandoci, ha portato secondo me in scena una storia che riesce ad intrattenere, a coinvolgere, con dei problemi in primis di recitazione certe volte, in altri momenti i dialoghi sono proprio assurdi, in altri ancora bisogna sospendere l'incredulità perché bisogna un po' non credere al realismo se si vuole accettare anche un certo colpo di scena sul finale. Per di più ci sono dei personaggi totalmente evitabili, senza background o caratterizzazione, però ecco nel complesso si vede che è un film fatto con pochi soldi, è un film che tenta comunque di stupire lo spettatore, anche di saperlo sconvolgere, è un film che parla di abusi sessuali, fisici, psicologici e secondo me nella sua breve durata di un'ora e venti ma mi va bene per questo tipo di film riesce proprio a intrattenere. Pensate che mentre scorrevano i primi minuti di questa pellicola dentro di me pensavo che già lo avrei bocciato perché l'inizio non mi ha convinto sia per i dialoghi sia per come vengono presentati dei personaggi, c'è una scena della protagonista Marta interpretata da Elisa del Genio che era la piccola Lenù Greco nella prima stagione dell'Amica Geniale, una serie che io amo, mi ha fatto piacere vederla cresciuta in questo film, una scena di lei in macchina con un suo amico che proprio non mi ha convinto sia per i dialoghi per ciò che accade, ho detto se tutto il film è così aiuto, ripeto poi non avevo visto nemmeno il trailer, non mi ero informato, poi invece non metto in dubbio che dopo dei difetti continuino ad esserci, ma comunque la pellicola si riprende, riesce ad essere per quanto derivativa originale, riesce a catturarti, ma di cosa parla? Praticamente la nostra Marta è una ragazzina che non vive bene la sua vita, anzi decide di farla finita e crea questo cocktail alcolico con una pasticca dentro che proprio la porterebbe a morire nel giro di mezz'ora. Mette questo bottiglione nel suo zaino, perché deve raggiungere una destinazione adesso non vi sto a dire, solo che scopriamo che il fratellino che ha accompagnato a scuola Chicco, una volta sceso dal motorino prende lo zaino sbagliato e quindi Marta si rende conto, caspita mio fratello ha preso lo zaino con dentro il bottiglione mortale. Allo stesso tempo come il fratellino arriva a scuola viene bullizzato, venendo bullizzato da questo ragazzo Grassottello scappa, si rifugia in questa villa che sembra di messa, una villa molto tetra, abbandonata a se stessa per rendersi conto di trovarsi di fronte ad un'auto parcheggiata con una donna dentro, una donna segregata al suo interno, noi vediamo che sia stata picchiata, ha un occhio tumefatto, è lì con la figlia chiara e questa donna inizia a chiedere aiuto perché attraverso dei flashback e attraverso il racconto capiamo che la sera prima abbia partorito che il piccolo bambino sia stato portato via da questo orco, così lo chiamano, e lei quindi è rimasta lì con la figlia anch'essa piccolissima e chiede aiuto, aiuto liberami, però Kik è un bambino piccolino, nel frattempo questo personaggio interpretato da Mirko Frezza, poi lo sappiamo Mirko Frezza dall'idea proprio del bell'imbusto cattivo, quasi un Michael Myers della situazione, in questo caso è enorme, forte, muscoloso, con questi capelli lunghi, con questa grinta, sembra quasi il Michael Myers dell'Halloween di Rob Zombie, quindi aiutami prima che ritorni, però il bambino si ritrova lì senza sapere cosa fare, ecco che la sorella accompagnata da questo bulletto che aveva tormentato il piccolo riesce a trovare Kikko, solo che ecco che torna anche l'orco, quindi bisogna nascondersi in questa villa, bisogna cercare di salvare queste due persone in macchina, ma soprattutto salvare anche le proprie vite. Questa è l'idea principale del film, proprio in poche righe vi ho descritto la trama semplice, nella sua semplicità è sicuramente efficace, poi a me non è piaciuto più di tanto come ci si arriva dentro questa villa, cioè tutto complicato, il film molto spesso vuol complicare delle cose semplici, cioè mostrare la ragazza che voleva farla finita, solo che si rende conto che il suo zaino è stato scambiato con quello del fratello, quindi bisogna tornare a cercare il fratello che nel frattempo è stato bullizzato e quindi chiedere al bullo, hai visto mio fratello? portami dove lo hai visto e il bullo lo porta alla villa, intanto il fratellino ha trovato queste due persone nella macchina, semplicemente a mio parere per non complicare le cose bastava mostrare una ragazza che non avesse scambiato lo zaino con il fratello che ad un certo punto quando torna a riprenderlo da scuola si rende conto che a scuola non c'è, intanto il bambino era stato bullizzato e si era nascosto in questa villa, chiede dov'è mio fratello e lo va a prendere, con sempre questa bottiglia nel suo zaino, però quando si vuol complicare, cioè già nei primi minuti vedere un'esagerazione di complicazioni inutili, tutto sommato ai fini della trama mi ha fatto dire, boh come certi personaggi, cioè anche l'amico della nostra Marta con cui si ritrova a viaggiare in macchina che ha prelevato 5.000 euro in contanti, non si capisce bene per quale motivo è un personaggio un po' fino a se stesso, quasi usato come accessorio, però tutto sommato ripeto è un film sì con dei difetti, sì con delle ingenuità, però poi quando arriviamo all'interno di questa villa, quando ci dobbiamo nascondere da questo terribile uomo grosso, potente, che proprio ti dà l'idea dell'orco come viene chiamato, ecco il film sicuramente ingrana, ingrana la marcia, riesce ad essere accattivante, poi ci sono dei momenti in cui la recitazione sarebbe da rivedere perché Anto a livello tecnico riesce anche a regalarci delle sequenze dove l'atmosfera thriller horror a leggi, dove sicuramente anche l'aspetto tetro della villa aiuta molto, però ecco, in dei momenti i dialoghi sono proprio imbarazzanti, lasciatemelo dire, in altri istanti la recitazione sarebbe da rivedere perché l'attrice è bravissima, ma così come tutto il resto del cast, mi è piaciuto Mirko Frezza, Elisa Deligenio, Tonia De Micco, Nicola Smagrini, Christian Labianca, gli attori tutto sommato sono bravi, sono bravi solo che in certi momenti non vengono diretti nel migliore dei modi, ci sono delle sequenze in cui anche tra sorella e fratello si dovrebbe vedere nel loro volto il panico perché stanno scappando da questo terribile personaggio, solo che c'è la tranquillità, percepiamo serenità, ma sì, dov'è, l'hai visto? Dimmi dov'è, dov'è nascosto? Quindi li vedo proprio troppo sereni in alcuni momenti, così come quando si dovrebbe piangere, che si vede che non è proprio credibile la reazione, però invece in altri momenti della pellicola il tutto diventa più realistico, solo che, ripeto, c'è un continuo ping pong di situazioni altalenanti dove il tutto riesce di più e dove il tutto riesce di meno. Sembra proprio di vedere un qualcosa di argentiano, anche nei capolavori di Argento la recitazione non è mai stata il massimo, delle ingenuità ci sono sempre state, dei dialoghi sopra le righe idem, la sospensione dell'incredulità a volte era più soddisfacente, altre volte no, a volte facevi più fatica. In questo caso c'è anche un finale con un colpo di scena, per quanto già visto in altre pellicole, però inaspettato. Qua non pensavo di andare incontro ad un finale del tipo, il film parla di abusi sessuali di violenza, il film presenta anche delle scene violente e vietato ai minori di 18 anni anche per i temi trattati, perché sì, vengono mostrate delle sequenze esplicite, però c'è anche molta pressione psicologica sui personaggi, si parla di temi come l'abuso sui minori, si parla di neonati morti, quindi comunque si capisce perché il film è stato vietato, anzi da un lato spero che questo essere vietato ai minori di 18 anni inviti anche il pubblico più giovane a recarsi in sala, col dire mamma mia vada a vedere un film vietato, perché ripeto, secondo me merita, merita con i suoi difetti, con le sue imperfezioni, con i problemi che giustamente uno spettatore attento potrà notare, però è anche vero che mi piace sostenere il cinema italiano, quello fatto con il cuore, quello più indipendente, quello low budget, che presenta anche dei guizi e dei momenti interessanti e che veramente sa differenziarsi da un ritorno come quello di Dario Argento che tutti gli amanti dell'horror come me aspettavano e che poi ha deluso pienamente le aspettative. Ripeto, se questo tenebra fosse stato il grande ritorno di Dario Argento avrei detto meno male, meno male ancora si ricorda come si può fare un film che comunque intrattenga, che comunque riesca anche a colpire per delle sequenze riuscite, poi se ci fosse stato Argento magari sarebbe stato più truce, più macabro, però comunque anche qua si parla di temi senz'altro importanti e nel suo piccolo è un film carino e modesto, quindi non aspettatevi il filmone, ma comunque se siete fan di un certo tipo di cinema sostenetelo, poi magari riuscirete ad andare oltre a certe ingenuità e certi difetti, magari invece no, sarete più severi, però tutto sommato io preferisco un film così che provi almeno a fare qualcosa di diverso che è l'ennesimo rifacimento non richiesto. Quindi questo è il mio parere, adesso farò una minima parte spoiler per dirvi anche più nello specifico cosa mi abbia colpito, cosa non mi aspettavo. Se aveste visto il film, continuate ad ascoltarmi, altrimenti andatelo a vedere, spero si trovi in tutta Italia e poi tornate ad ascoltarmi. Nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e alla prossima! Dunque, partiamo dal presupposto che non mi aspettavo che il cattivo della situazione Mirko Frezza in realtà sarebbe stato poi il buono della situazione, buono per modo di dire perché comunque bisogna ricordare che la violenza anche su Marta e il fratellino la usa, però tutto sommato scopriamo che quella fuori di testa fosse invece la ragazza chiusa in macchina con una figlia che in realtà non c'è, quindi un po' la sindrome di Stendhal, lei si è immaginata tutto, ha questa visione distorta del mondo che sta vivendo, non accetta di aver ucciso la figlia, non accetta di aver ucciso il bambino appena nato la sera prima e che quindi una volta che Mirko Frezza e il marito se ne è reso conto ha scagliato tutta la sua rabbia, tutta la sua negatività, tutto il suo dolore su di lei, comunque picchiandola e questa cosa è del tutto sbagliata, quindi comunque il personaggio di Mirko Frezza è sicuramente uno che inizialmente potevamo scambiare per il maniaco, il folle, il killer della situazione tutto sommato non lo è, ma è comunque sbagliata la violenza, quindi sono tutti personaggi oscuri, sono tutti personaggi grigi questi, quindi la nostra Marta si ritroverà a dover fronteggiare questa donna e devo dire non mi aspettavo la scena in cui tu non hai coraggio di uccidere la bambina, inizia con l'accetta ad ucciderla col sangue che le schizza in faccia per poi scoprire che fosse un bambolotto, quindi anche lì bisogna comunque capire che Marta se ne fosse accorta ma che stesse tenendo il gioco per non illudere questa ragazza sconvolta che era stata rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, ma il bagagliaio dell'auto, l'occhio che guarda dal buco, bambolotti, c'è il cinema di argento nelle musiche, nella villa tetra, c'è il cinema di argento da tutte le parti e quante ingenuità di questo tipo abbiamo trovato nel cinema argentiano, tantissime. È un finale che si riesce anche a sorprendere ma bisogna sospendere del tutto l'incredulità con il personaggio, l'amico lì di Marta, inutile, inutile perché era inutile quando era in macchina, ditemi voi a cosa è servita la scena della gomitata, a cosa è servita la scena dei soldi che aveva preso, ditemi voi anche il ragazzo che poi raggiungerà Marta per vivere una nuova vita che le manda la lettera, sì è utile perché puoi vivere una vita diversa, ti aspettiamo però ai fini della trama non ha caratterizzazione, non ha background, è un accessorio per far dire allo spettatore ok ora lui attende lei, lei si recala a lui e così via però è tutto sommato. Forse da un lato allora si poteva evitare anche il fatto che Marta si volesse uccidere perché già aveva la salvezza pronta a casa di questo ragazzo da un padre che abusava di lei, guardiamo le scene all'inizio, si parla di abusi, come era stata violentata dal padre, la ragazza nella macchina anche la nostra Marta vive delle esperienze negative con il padre, si sveglia, le toglie il braccio, va a farsi la doccia, si pulisce tutto, allo stesso tempo c'è il parallelismo con la donna nella vasca, quindi Marta e la ragazza nel bagagliaio sono molto simili, molto molto simili e forse in un film di Argento si sarebbe parlato anche di ereditarietà, di questa pazzia no? Però ecco non siamo in un film di Argento anche se si attinge da esso, quindi ci sono delle cose in più, cioè per me anche questo bottiglione dove diluire la pasticca poteva essere evitato, sì è utile perché poi lo prende lo spietato orco che beve in mezz'ora muore, però anche come ci si arriva, forse la sceneggiatura in certi momenti poteva essere poteva essere rivista, poteva essere rivista in qualche modo, sicuramente accetto la bottiglia di whisky con dentro il cianuro cos'era, ora non ricordo, ma non accetto che ci sia lo scambio di zaini, non accetto veramente il personaggio con questi attacchi che dà la gomitata al poliziotto, che poi quel personaggio proprio no, è inguardabile, però ripeto i momenti all'interno della villa, per quanto in alcuni istanti non si nota la preoccupazione nel volto dei protagonisti, per quanto tutto poteva essere giocato meglio, è stato utile per intrattenermi, per coinvolgermi, per poi arrivare ad un finale in cui anche l'interpretazione è decisamente migliore rispetto ad altre sequenze in cui ci si credeva ben poco, bisogna dire che Tenebra è tratto liberamente dal romanzo Il primo uomo su Marta di Giuliano Fiocco, che proprio sceneggia il film insieme a Giovanni Cardillo e Tony Ersino, anche autore del soggetto come trovo scritto online, quindi è un film interessante, è un film modesto, è un film con i suoi difetti, che però mi ha intrattenuto, che però ci tengo a sostenere, perché bisogna sempre capire di cosa si stia parlando. Se ora io stessi parlando di Tenebra, film girato con milioni e milioni di budget, con tutte queste imperfezioni avrei detto non ci siamo, invece pensiamo ad un film low budget, che nel suo essere piccolo e indipendente riesce comunque a sorprendere. Con poco budget si cerca di fare il possibile, quindi perdono anche le imperfezioni, che comunque ci sono e tante, e le ingenuità. Questo è il mio parere, fatemi sapere la vostra, vi attendo nella sezione commenti e spero che abbiate anche voi potuto apprezzare qua e là questa pellicola così particolare, diversa dal solito, che ripeto, l'avesse diretta argento avrei detto meno male rispetto a occhiali neri. Un caro saluto ragazzi e alla prossima!